Attribuita al pittore di Edimburgo, attivo tra il 500 e il 490 a.C., questa Lekitos, vaso usato per contenere oli e onguenti, ha una decorazione complessa e raffigura il combattimento fra due eroi. Un uomo in udità eroica, barbato, reca in una mano una spada e nell'altra il suo fodero. Due uomini lo trattengono, lo bloccano, afferrandolo al torace. L'altro li si oppone in una posa molto simile ed è bloccato da altri due personaggi. Al centro una figura maschile, vestita con chitone, una specie di tunica senza maniche, ed un mantello, sembra fare da giudice alla contesa. L'episodio mitologico potrebbe essere identificato con la contesa fra Odisseo ed Ajace, per stabilire a chi dovessero essere assegnate le armi di Achille. Questo affascinante reperto vi aspetta al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.